Quali sono i cambiamenti organizzativi per chi conduce e per i protagonisti dell'azione censuaria e quali sono i cambiamenti anche per i cittadini coinvolti nell'azione censuaria? Il censimento della popolazione dal 2016 dovrebbe diventare continuo cioè essere effettuato una volta ogni anno però c'è da dire che cambieranno moltissimi metodi anche l'organizzazione con conseguenze ovviamente di qualche rilievo in termini di minor fastidio statistico sulle famiglie e sugli individui che devono appunto rispondere al questionario censuario. In effetti si tratta di un passaggio considerevole perché si passerà al conteggio di popolazione basato sui dati amministrativi quindi sulla integrazione tra fonti amministrative di dati demografici in particolare a partire dai registri di popolazione che noi comunicamente in Italia chiamiamo anagrafi comunali per poi fare due integrazioni con indagini campionarie una dedicata alla correzione dell'eventuale errore di sovra o sotto copertura dell'anagrafe rispetto alla realtà e l'altra al completamento invece del set delle variabili informative di tipo sociale e di tipo economico che sono proprio del censimento. Naturalmente questo significa che eviteremo di fare un'operazione ogni anno di massa così massiccia e ampia come è stato per esempio ancora l'ultimo censimento del 2011 cercheremo di utilizzare molto più i dati amministrativi diminuirà quindi il numero delle famiglie che verranno ogni anno intervistate e dovranno compilare il questionario. Questo è uno degli elementi costitutivi del censimento continuo, quello di costare di meno, di impattare di meno sull'organizzazione della rete territoriale in particolare sui comuni che sono in qualche modo messi sotto sforzo notevolmente nel censimento di tipo decennale e l'altra cosa importante è che anche il costo sarà inferiore rispetto a quello che abbiamo conosciuto nelle passate edizioni diluito nel tempo però, e questo è l'altro elemento fortissimo, una maggiore offerta di dati territoriali quindi un'offerta di informazione statistica territoriale perché sarà assai più frequente e quindi anche più aggiornata.